Good morning! Good morning a tutti! Good morning a tutte! 7.07 mercoledì 7 febbraio benvenuti in un appuntamento con Good Morning Milano o meglio con Good Morning Sanremo ebbene sì siamo qui in diretta da Sanremo come anche ieri mattina e come faremo fino a venerdì perché saremo qua a raccontarvi tutto il festival di Sanremo se mi sentite un po' rallentato e un po' addormentato sappiate che siamo tornati e siamo andati a letto alle 2.30 perché ora che è finito tutto quella era l'ora e finisce intorno alle 2 e qualche minuto la puntata di ieri sera del festival di Sanremo e dove abbiamo lasciato la sala stampa appunto intorno a quell'ora e quindi questa mattina vi racconteremo tutto quello che è successo in sala stampa ma soprattutto i primi ascolti, le prime reaction ai primi ascolti la top 5 uscita dalla sala stampa di ieri sera che è l'unica classifica a cui possiamo rifarci in un certo senso sappiamo che non verranno date classifiche durante le serate se non all'inizio della serata di sabato dove si inizierà appunto quella puntata con la classifica generale che poi dopo potrà essere confermata, ribaltata da Alessandro Borghese no scusate dal pubblico da casa che potrà votare che gli è chiuso così Amadeus dicendo e poi voterete, potrete confermare o ribaltare tutti aspettavano che uscisse Borghese o 4 hotel o 4 ristoranti ma invece no, era un'altra cosa, era il festival di Sanremo la top 5, sapete chi c'è in testa in questo momento? Loredana Bertè e sì, grande rivelazione di questo Sanremo Loredana Bertè non sono una signora e Loredana Bertè non sarà una signora ma è una grande artista ah sì è una grande artista perché davvero abbiamo avuto conferma ieri sera della grande caratura di Loredana Bertè e di quanto ha fatto infiammare l'Ariston ma anche la sala stampa che l'ha appunto messa come prima nella top 5 che esce fuori dalla sala stampa nel frattempo ringrazio anche il maestro Conte che ci segue e che tutti i giorni ci manderà anche lui delle indicazioni interessanti maestro Conte che è un critico musicale un maestro appunto di musica è stato anche tempo fare una delle giurie di qualità di X Factor e ci dice appunto il maestro Conte e dice che per lui le migliori sono Mannoia, Mahmood, Annalisa, Mango e Loredana Bertè Mannoia e Bertè hanno fatto far saltare tutta la sala stampa ma andiamo per Bergradia allora ieri pomeriggio tra parentesi mi ricordo c'è stata la conferenza stampa in cui Mengoni ha fatto due passaggi molto interessanti e molto mi sono piaciuti tanto è stato molto quello della canzone dell'aver cantato Bella Ciao insieme ad Amadeus ma poi ha fatto due passaggi importanti che voglio ricordare il primo aveva a che fare con la Marchesini eh sì, ha ricordato la Marchesini ha ricordato l'anno in cui la Marchesini è stata sul palco dell'Ariston e ha detto mi voglio ispirare a lei tanto che a un certo punto ha fatto anche un pezzo appunto proprio parlando e ringraziando alla fine la Marchesini un pezzo comico quasi ma è stato molto molto interessante una sua interpretazione quasi shakespeariana che poi si è concluso in un che palle sto Sanremo però è stato veramente veramente interessante in altro passaggio molto importante di Marco Mengoni durante la conferenza stampa un passaggio sulla salute mentale lui ha raccontato appunto di essere aiutato da un professionista per cercare appunto di superare o meglio anche lì di non di guarire dalle ansie o di togliere le proprie ansie ma di imparare a gestirle un messaggio molto interessante e molto importante per una generazione come in parte del pubblico di Marco Mengoni che ha bisogno di sentirsi anche in un certo senso coccolata dai propri artisti e capita anche dal punto di vista di dire guarda non sei solo anch'io anch'io Marco Mengoni che sono a questo livello che sono che tu mi vedi come il tuo idolo indiscusso beh abbiamo magari qualcosa in comune e anch'io come te vado da qualcuno a farmi aiutare quindi un bel messaggio lanciato durante la conferenza stampa appunto di ieri pomeriggio ieri mattina scusate all'Ariston per l'apertura di Sanremo Marco Mengoni che devo dire è stato davvero davvero all'altezza della serata divertente simpatico a volte un po' fuori dalle righe anche se sappiamo benissimo che è tutto scritto davvero tutto scritto anche quando sembra che vanno fuori dalle righe e tutto programmato tutto scritto forse a volte un po' troppo sarebbe carino se si lasciasse ogni tanto qualche margine qualche spazio agli artisti che sono come Mangoni ma anche come Amadeus che sono un artista del palco della presentazione dell'intrattenimento che magari lasciarmi a volte un po' di spazio non scriviamo proprio tutto tutto però invece così vuole la liturgia di Sanremo c'è una liturgia anche invece nella vostra città nella nostra città perché adesso in questo momento sono qui ma sto parlando di Milano che è quella di alzarsi la mattina e sperare che non ci sia il camion della nettezza urbana a chiudere la strada non ci sia una macchina in doppia fila a bloccare il tram non ci sia il solito traffico e per sapere qual è la situazione appunto del traffico in questo momento sulla nostra città beh che fare sentiamo la luce verde Francesca Michelin fulmini addosso 7 e 20 minuti andiamo avanti a parlare anzi andiamo avanti a leggere i vostri whatsapp che arrivano al 33178 53555 grazie mille ad Alberto che mi manda prima di tutto una foto di tante tante tazzini caffè che ho scritto buongiorno Fabio buon risveglio grazie mille Alberto forza e coraggio e un saluto a tutti gli ascoltatori di Cristal Radio Milano grazie Alberto per il tuo messaggio ma poi continua chiedendo l'attuale classifica di Sanremo rispettare le tue aspettative ma allora vi dico io non avevo grandi aspettative se non da alcuni artisti che dopo andremo a vedere e su cui mi prendo infatti la riserva di dirvi cosa ne penso dopo il secondo ascolto dopo gli ascolti che faremo magari anche oggi ma andiamo a leggere la top 5 allora la top 5 della sala stampa perché continuo a ripetere la sala stampa perché ieri sera votava solo la sala stampa attenzione nella sala stampa e sono due una è quella dove noi siamo seduti a guardare la trasmissione lì alla sala stampa a Lucio Dalla l'altra è quella nel roof sopra all'Ariston dove loro guardano da lì comunque sono due una molto piccola quella dell'Ariston e una abbastanza grossa quella dove siamo noi al palafiori della Lucio Dalla quindi io mi ho fatto un'idea rispetto a applausi gente cantante che cantava gente che salzava così devo dire che ad esempio un artista che pensavo ci dovesse essere in questa classifica non c'è stata che ad esempio Fiorella Mannoia ma andiamo a leggere la top 5 che è venuta fuori ieri sera dalla sala stampa quinto posto Mahmood ok vabbè ci sta quarto posto Diodato terzo posto Anna Lisa secondo posto Angelina Mango primo posto Loredana Bertè devo dire che la Bertè mi aspettava Fossento perché quando è entrata Stanley Innovation della stampa grandi applausi ma mi aspettavo anche la Mannoia appunto perché c'era gente che cantava che ballava diciamo che la sala stampa era presa bene e invece non è finita nella top 5 vabbè adesso io se dovessimo fatto gli exit pool come alle elezioni avrei dato un'altra top 5 personalmente devo dire che ci sta io forse deverei Anna Lisa e metterei Clara ma semplicemente perché sono canzoni abbastanza simili come Mood ok boh allargo i giovani nonostante Anna Lisa non sia molto giovane anzi però così nel senso Clara si è distinta abbastanza bene e soprattutto un premio in più gli andrebbe dato perché arriva da Sanremo Giovani ed è stata anche la prima ad esibirsi quindi attenzione non so quanti di noi sarebbero capaci di gestire una pressione del genere e devo dire che Clara l'ha gestita davvero davvero bene sono 30 gli artisti che si sono esibiti ieri sera sono tutti 30 gli artisti come vi dicevo abbiamo iniziato alle 9 da sera abbiamo finito alle 2 e qualcosa e adesso uno alla volta piano piano vi andrò a leggere le impressioni a caldo io ho proprio fatto una lista avevo una lista davanti mentre si vivono e scrivevo delle parole delle frasi pensando appunto a questa mattina quando vi avrei dovuto raccontare e voluto raccontare quello che è successo ieri sono parole a volte niente di più frasi pensieri battute ok che mi sono venute in mente proprio nel momento in cui guardavo la diretta del festival di Sanremo ieri sera tutto questo lo facciamo però dopo dopo una piccolissima pausa dopo una piccolissima pausa ci ascoltiamo due canzoni poi torniamo qui e iniziamo con i 30 artisti esibiti ieri che sono esibiti ieri sul palco e vediamo uno a uno le impressioni mie e anche diciamo del mio collega Alex Pierro perché era di fianco a me che diceva cose un milione di notte un milione di notti e appunto ho voluto iniziare questo blocco con Clara perché Clara è stata la prima ieri sera a esibirsi sul palco dell'Ariston allora che cosa ho scritto nei miei appunti mentre guardavo Clara cantare mentre saliva sul palco mentre si esibiva con la sua canzone allora prima di tutto ricordiamo che arriva da Aria Sanremo quindi Sanremo è uno dei tre diciamo giovani che adesso non sono più così ma diventano di default big perché arrivano appunto da quella esibizione da quella manifestazione che è Aria Sanremo e Sanremo giovani Cassa che pompa inizia subito il tormentone di Cosa Sanremo che sarà la Cassa che pompa la Cassa dritta no? quindi il beat che va che va che pompa così 5 o 6 canzoni così ci sono ok e infatti mi spiace provare a Clara l'altro commento che mi è venuto spontaneo a scrivere forse un po' troppo Anna Lisa poi in realtà andando avanti una serata l'ho rivalutata o meglio detto beh però almeno lei è nuova diamogli una possibilità quando vedi invece dei veterani diciamo nel festival o comunque gente veterana in un certo senso perché i veterani sono una mannoia con diciamo le abitue delle classifiche e dei festival degli ultimi anni che rifanno ripropongono la stessa cosa allora Clara va benissimo quello che hai fatto San Giovanni invece San Giovanni è il secondo che è salito sul palco Indy San Giovanni Indy o forse come ha detto il nostro mio collega Alex Piero forse non è Indy ma è Indisposto effettivamente la canzone non parte non parte cioè sei lì che ti aspetti che succeda qualcosa un po' come quei film dove dici dai adesso succede adesso succede e a un certo punto così debotto senza un senso arrivano i titoli di coda ecco un po' così questa canzone non riesce a partire non riesce a partire e in più devo dire abbiamo avuto un po' di difficoltà non sotto l'unico mi sono guardato in giro e ho chiesto anche appunto ai colleghi non capivamo le parole le parole erano un po' così appiccicate tra di loro non si capiva bene le parole ma soprattutto ce ne siamo accorti che non capivamo bene le parole della canzone San Giovanni dell'artista successiva Fiorella Mannoia qui c'è tanto da dire allora appena è salito ho detto beh ma è salito in abito da sposa poi ho pensato sì ma che sposa e soprattutto poi nel testo della canzone si capisce anche c'è un riferimento appunto alla sposa all'abito da sposa quindi era anche contestualizzato la cumbia quindi torna la cumbia stile cumbia l'Ariston tiene il tempo con le mani ovviamente male come sempre quando un pubblico batte le mani fa più danni che altro rischi di mandare fuori il tempo l'artista per fortuna che hanno il click nelle cuffie e il volume credo che sul palco dell'Ariston non ti faccia sentire le mani del pubblico dell'Ariston per fortuna un altro commento mi è venuto un po' da scrivere a un certo punto però è welcome to Tijuana effettivamente è un po' è un po' quel mondo lì welcome to Tijuana un po' Cuba un po' Mexico però devo dire gran pezzo e soprattutto cantato in maniera magistrale adesso so che sembra scontato si capivano tutte le parole anche le congiunzioni e anche gli avverbi le virgole e tutto quello che c'era quindi davvero un'esibizione pazzesca voce chiara e limpida e da grande artista come è quella di Fiorella Vannoia che non annoia mai e infatti applausi grandi applausi dalla sala stampa per cui sono rimasto poi non vedere il suo nome però nella top 5 mi aspettavo di vedere il top 5 e invece no pensate che dalla sala stampa è così reagito bene a questa canzone che ci hanno ripreso a un certo punto hanno detto ragazzi anche meno perché per motivi di sicurezza non possiamo fare tutto sto bordello così ci hanno detto e quindi state calmi ozuna insieme a david getta vocation 7 e 37 minuti andiamo avanti con i commenti a caldo ieri sera adesso non più così a caldo di quello che è successo ieri sera sul parco dell'ariston allora il quarto artista sono stati i quarti artisti artisti a salire sul parco sono stati la sad o meglio abbiamo scoperto ieri sera la sad così no li vedono anche così con questa sad perché fa così a madre se l'ha fatto così anche loro l'hanno fatto e detto così con tanto di lingua fuori io non li ho capiti mi chiedo scusa a chi magari li segue tutto il mio commento è stato il K-pop in salsa colorata nel senso che tu ti aspetti il punk e il tutto e invece sale su una boy band da K-pop eh sì infatti altro che punk questo è spank un primato però che vorrei attribuirgli ai tre è che sono la versione coloreria di una boy band quello si devo dire si vedono più i capelli che si capisce si vede più i capelli di tutto quello che invece capire la canzone però 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 bonus extra bonus lo diamo ai la sad perché è interessantissimo il tentativo di portare un tema come quello del suicidio su un palco così importante come quello dell'Ariston con tanto appunto di appello finale verso fatto anche da Madeus in persona sul telefono amico quindi la sad danno una mano all'associazione del telefono amico quindi complimenti ai la sad Irama 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 boh boh nel senso che Irama parla al suo pubblico Irama fa una canzone che è quello che ti aspetti da Irama quindi se vi piace Irama vi piacerà sicuramente questa canzone di Sanremo di Irama Gali 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 nostro vicino di casa Baggio Rules che dire io avevo tantissime aspettative aspettative molto alte non solo io ma tutti quanti anche per la presenza di Ricciolo e tutto quello che era il mondo intorno a lui quindi non posso che volergli bene cita ancora il quartiere senza nominarlo direttamente ma dice torno in quartiere parla del quartiere diciamo che lo promuovo con riserva ne riparliamo dopo il terzo o quarto ascolto e poi arrivano i Negramaro i Negramaro sono i settimi che si esibiscono arrivano loro salgono sul palco la solita canzone di Negramaro anche qui se vi piace il Negramaro non c'è niente da dire lui voce pazzesca sempre una grandissima voce il cantante Negramaro a un certo punto c'è un conto alla rovescia stile David Bowie che lascia un pochino così perplessi perché metterlo lì insieme anche alla citazione di Battisti tanto discorsa che effettivamente è buttata lì giusto così tanto per mettercela devo dire che tutto invece la ritmica della batteria tira in mezzo di brutto a se piace si si tira in mezzo di brutto dopo i Negramaro sono salita è salita Anna Lisa Anna Lisa ce la portiamo avanti fino a quest'estate ve lo dico questo è il tormentone devo citare il mio collega Alex Perro che però ha detto si sono messi in quattro per scrivere sta roba qua perché ci sono quattro autori nella canzone di Anna Lisa anche il famoso Simonetta tirato in ballo più volte durante X Fartor da Morgan quest'anno in quattro per scrivere sta roba qua così ha detto Alex Piero mio collega in sala stampa anche qui la cassa pompa la cassa pompa in quattro quarti tum 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 ti tira in mezzo e sicuramente voce sempre divina per Anna Lisa che davvero ha una voce pazzesca e quindi è un po' un peccato che magari la dia canzoni che potrebbero invece essere magari un po' più strutturate proprio anche sulla sua voce al 3317853555 ci scrive Erika che dice buongiorno i Lasserd hanno ricordato i Finlay e i Velvet un tour degli anni 90 inizio 2000 sì effettivamente forse è quello chi ha in testa coi gruppi lì ma forse c'era qualcosa di un po' più profondo qui non lo so c'era qualcosa forse di diverso qui molta molta fiction secondo me e questo è il problema ma adesso andiamo appunto con la grande voce di Annalisa Annalisa con ragazza sola e complimenti sempre davvero la voce di Annalisa pazzesca canzone invece quella di Sanremo un po' fotocopio delle canzoni precedenti di Annalisa nono artista a salire sul palco ecco Mahmood Mahmood ahimè scusatemi il primo commento che mi è venuto da scrivere solito falsetto quella roba lì che io non riesco a digerire nel senso che bravissimo Mahmood basta mi sembra sembra anche qua un po' una cosa già sentita la casa che pompa invece la casa che pompa c'è anche qui e quindi non si riesce a stare fermi e anche questa qui secondo me se Annalisa la portiamo avanti fino all'estate questa magari fino all'estate non ci arriva ma non è che ce la teniamo ce la teniamo per un bel po' questa tuta gold ce la teniamo per un po' anzi attenzione e qui c'è l'effetto tiktok possibile effetto tiktok trend su tiktok per il pezzo di canzone che dice i cinque cellulari nella tuta gold già me ne immagino tutti i vari challenger real con la mossa è proprio fatta apposta è un è un second è un minutaggio un secondaggio cioè una durata di secondi fatta apposta per fare il tiktok della giornata il tiktok che spacca il tiktok che diventerà virale e quindi secondo me sarà così e questo Mahmood ce la portiamo avanti per un bel po' sale Diodato vincitore del festival 2020 lui è il decimo a salire ancora mi spiace per quella vittoria che mi ha portato all'unica edizione del non Eurovision lui non l'ha mai fatto quindi Diodato gli voglio bene anche solo già per questo canzone da Sanremo devo dire che è quello che ti aspetti da un festival di Sanremo lui sempre bene canta bene molto bene canta bene molto bene e devo dire che la scosa ormai non è scontata nemmeno al festival di Sanremo quindi il fatto di cantare bene non è una cosa scontata con i tempi che corriamo e poi arriva lei arriva una regina un re regina Dio e Dea tutto insieme Loredana Bertè stare sul parco finalmente arrivano anche le chitarre distorte sul parco dell'Ariston quel pizzico un po' di Vasco Rossi che ci sta sempre bene in un festival come quello di Sanremo il ritornello è orecchiabilissimo cioè lo canteremo tutti quanti per tanto tempo e finalmente soprattutto Loredana grazie per avere lasciato a casa il reggaeton che ultimamente così contaminava le tue le tue canzoni e torna invece al rock e questo viene appunto premiato dalla sala stampa con applausi scroscianti e gente che saltava in preda a una Loredana Bertè fa mania esploda così di colpo ma in realtà latente da sempre numero 12 Joliet il Jolietliere come diceva René Ferretti Docet comunque è subito allora con Joliet è complicato complicato per una radio di Milano complicato per uno che è milanese come me è veramente complicato non cadere del razzismo facendo dei commenti quindi chiedo scusa se qualcuno si sente preso in causa il primo commento che ho scritto è Joliet ed è subito mare fuori che incontra il castello delle cerimonie un po' così devo dire la verità qui davvero chiedo l'aiuto da casa anzi parafrasando una canzone del passato Sanremo chiedo aiuto a Zio Pino il parente di Giù di Dargen perché abbiamo fatto veramente fatica a capire come dice oltretutto Alex Pierre il mio collega che appunto è Presidente dell'Associazione Giornalista e Critici Musicali Italiani che siede al mio fianco o meglio sono io che si do al suo fianco perché insomma lui è quello importante dei due sta di fatto che dice Joliet è un neomelodico pentito cerca di fare altro cerca di darsi al pop ma in realtà di base quella roba lì è dentro la sua vene Joliet che era stato salito sul palco come numero 12 se non sbaglio invece al tredicesimo chi c'è al tredicesimo posto a salire o meglio al tredicesimo posto della scaletta delle esibizioni dell'Ariston c'è Alessandra Amoroso che dopo pochi secondi della sua canzone mi ha fatto scrivere questo commento bella questa canzone di sei anni fa di Malika Yan devo dire che è una canzone che se avesse portato Malika Yan sei anni fa al festival di Sarema avremmo detto che bella canzone adesso forse è un po' fuori tempo massimo fuori tempo massimo però c'è la scienza perfetta del pianoforte in minore e della cassa profonda che funziona sempre e fa vibrare il cuore compito fatto e portato a casa almeno per i suoi fans sargono poi i The Colors che secondo me io ve lo dico appena l'ho visto ho pensato questo che non ce lo vogliono dire anzi condividete tutti non ce lo vogliono dire ma non era Stash quello che cantava era Ciro Priello dei The Jackals ok molto simili devo dire e capite che però se devo dire questa stronzata è perché non ho ben poco da dire sulla canzone un po' poi a un certo punto c'è un ritornello strano un ragazzo un ragazzo così sembra quasi il prequel di lui che bacia lei che bacia me racconta la parte prima di quella canzone e soprattutto credo che questa canzone di The Colors che comunque ci porteremo avanti che questa fino all'estate secondo me che sarà altro mentone di questo sanremo però è quella canzone che ti fa ricredere su Insta e su Italo Disco questa canzone che ti fa ricredere su Italo Disco commento finale della canzone si stava meglio quando si stava peggio questa è la mia idea su The Colors e al quindicesimo posto sale invece quella che personalmente è stata un po' una rivelazione della puntata io per la mia ignoranza musicale forse ecco perché in realtà molti già ce lo sapevano che è Angelina Mango allora devo fare i complimenti ad Angelina Mango torno alla cumbia dopo la mannoia torno alla cumbia anche con Angelina Mango confermate quindi le aspettative del pubblico e della critica non le mie le vo' veramente basse quindi me le ha invece fatte ribaltare e potrebbe essere anche il brano top di questo Sanremo parla molto bene alla sua generazione ma fa ballare anche i più attempati oltretutto finale voto con lode alla mossa di bacino e schiena degna della miglior Marisa Laurito ma devo dire effettivamente quel balletto anche quello secondo me TikTok vedrete cosa non scatenerà su TikTok questi sono i primi quindici vi leggo anche il sedicesimo perché devo dire ho fatto solo una riga velocissima quindi ve la posso leggere poi andiamo in pausa e poi nella seconda ora leggeremo gli altri quindici che mancano appunto all'appello per arrivare ai 30 i sedicesimi in realtà che sono saliti sono stati il volo io ho voluto commentare con una sola frase molto semplice e con cui poi vi saluto e andiamo in pubblicità mi avvalgo della facoltà di non rispondere a fa poco Van Allen Van Allen con Jump questo è il Crystal History delle ore 8 qui su Crystal Radio a Good Morning Milano che questa settimana è Good Morning Sanremo 331-7853-555 il nostro numero di Whatsapp potete scriverci come hanno fatto tanti questa mattina anche per condividere le loro idee ad esempio anche Roberto ci ha scritto e ci ha dato la sua personale top 5 che ve la ricordo Mannoia Mamoud Annalisa Mango Bertè e poi dice la canzone di Annalisa che a me non piace tanto ma vedrai che sarà sul podio e è molto radiofonica la radio da stampa peccato che non premi in una Mannoia ma lei è stata stupenda la canzone il testo l'interpretazione tutto da 10 e l'od quindi grazie al nostro pubblico che appunto ci scrive al 331-7853-555 andiamo avanti con gli altri artisti vediamo altri 15 da raccontare quindi numero 17 Big Mama anche qui Cassa che pompa un po' Mood Cenere di Lazza c'è quella possibilità che ricordo un po' troppo quella canzone lì io avevo molte aspettative avevo ovviamente delle aspettative molto alte per la canzone di Big Mama e le rimando quindi al prossimo ascolto però complimenti per come ha fatto suo il palco adesso che l'ha fatto proprio bene e quindi o è bravissima a fingere a recitare oppure si è davvero davvero divertita tantissimo e l'ha fatto passare questo divertirsi alla fine anche caduta in un pianto liberatorio proprio adrenalinico quindi davvero bello vedere chi si emoziona così sul palco forse un abuso del drop cioè quel momento in cui la canzone si stoppa un attimo per poi ripartire con la cassa che pompa ecco forse lì un attimino troppo potevate fare un po' di più Marilena ci scrive al 3317853555 faccina che piange io a Big Mama non ci sono arrivata troppo sonno e sì qui incomincio a raccontarvi forse quello che ieri sera vi siete persi come ad esempio l'esibizione dei ricchi e poveri ricchi e poveri che le avevamo lasciati un po' come la risposta italiana agli Abba e invece le ritroviamo senza A e senza B quindi l'operazione Cugini di Campagna dello scorso anno non si ripete con loro quest'anno per dovere di cronaca però devo dirvi che la sala stampa si infiamma batte le mani come sempre ovviamente fuori tempo e si fa prendere benissimo dalla canzone dei ricchi e poveri dopo i ricchi e poveri sale Emma sale Emma che porta una base elettronica che fa muovere gambe, spalla, braccia cassa che pompa anche qui questa è la cassa in quattro che ritorna la sala stampa la canta già quindi già quelli che l'avevano sentita la sapevano già se potevano già cantare canzone in stile Emma Emma porta una canzone in stile Emma che un po' strizza l'occhio ad un sound lontanamente da Riviera anni Ottanta diciamo il palco comunque è suo lei è una grandissima professionista e si diverte molto molto anche lei al ventesimo i ventesimi che sa dire sono Neck e Renga che hanno una formula chimica perché se tu prendi due atomi di idrogeno e ci aggiungi un atomo di ossigeno ti risulta una molecola di acqua ecco la stessa cosa se metti Neck insieme a Renga ottieni senza possibilità di errore quello che abbiamo sentito sul palco dell'Ariston una scienza esatta canzone che personalmente non mi entusiasma ma che risulta essere quello che ti aspetti fin dall'inizio da loro due quindi complimenti a Rek e a Renga perché così li ha nominati durante la conferenza stampa Marco Mengoni invece complimenti a Neck e a Renga complimenti anche a Vasco Rossi che oggi fa il compleanno quest'anno è oggi appunto è il compleanno del Blasco e quindi ci ascoltiamo Vasco Rossi con Bollicine Vasco Rossi con Bollicine e buon compleanno Vasco tanti auguri ancora a Vasco che oggi fa gli anni andiamo avanti con gli artisti che si sono esibiti ieri sera sul palco dell'Ariston adesso siamo arrivati al ventunesimo artista che è salito sul palco molto veloce il mio commento Mr Rain sale e il mio commento è la canzone all'incedere ritmato poco ritmato delle sue canzoni precedenti un canzone fotocopia poi ditemi voi e invece arrivano i ventiduesimi arrivano anche loro a Sanremo Giovani sono quelli del codice fiscale quelli che hanno il nome come codice fiscale sono i bunker 44 che si chiede più bunker così giovani bravi nel senso bravi che siete giovani punto perché non siamo la Corea non quella del nord è quella del sud dico non siamo quella roba lì il gruppo di ragazzini che strizza l'occhio ai gruppi k-pop non funziona o meglio per noi per me non può funzionare non è quella roba lì zompavano a destra-sinistra sul palco senza e no sarò vecchio ma e no sul palco dell'Ariston ci devi andare con un'idea un progetto e la voglia di conquistare quel palco anche scenicamente e non saltellando a destra-sinistra senza una meta che poi in realtà c'era come dire i Take That i Backstreet Boys così avevano magari le canzoni non è che erano sti capolavori uno sapevano cantare due c'erano le coreografie e tre erano gli anni 90 anche questo c'è da dire adesso dobbiamo ritornare a quella roba lì far finta di fare il k-pop ma poi non farlo bene devo dire che però forse dovrei avere 15 anni per capirli meglio ma ho il dubbio che anche se avessi 15 anni vi direi lo stesso anche no ventitresimo artista in gara gazzelle non quello dell'Adidas ma quello che è salito sul palco dell'Ariston se la fidanzata vi lascia e avete 16 anni è la canzone perfetta per voi sì per tutto il resto c'è altro musicalmente però almeno esce un pochino dagli schemi sentiti fino ad ora sul palco si avvicina ancora però troppo lontano alla musica da cantautore strizzando un po' l'occhio all'indie da tenere sotto controllo secondo me gazzelle devo dire che appunto credo che se fossi un ragazzino nell'anno 2024 molto veramente gazzelle sarebbe nel mio Walkman non avrei il Walkman se fossi un ragazzino nel 2024 però effettivamente Darjen 24esimo e Darjen qui si torna a pompare di brutto e sì qui la cassa pompa 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 non si può restare fermi non può restare fermo un solo muscolo del corpo stile Darjen al 100% che in questo caso vuol dire conferma però anche di un testo molto apprezzato tema quello dell'immigrazione degli sbarchi e del dramma dei nafraghi nel Mediterraneo si conferma un grande parogliere e una persona sensibile a certi temi apprezzato molto anche e anche dalla sala stampa un appello finale verso il cessato del fuoco a Gaza ha preso proprio un momento per farlo secondo me rubando un attimo la scena in situazioni che in un festival di anni fa non sarebbe mai stato concepito che un artista parla per più di due secondi qui ha fatto un bel appello al cessato il fuoco molto probabilmente insomma Amadeus non può dire certe cose le lascia dire ai cantanti in gara mi sembra un'ottima soluzione 25esima Rose Villen strilla da subito il problema è quello di Rose a me piace tantissimo ma strilla da subito cerca di un po' quella roba lì c'è proprio anche qui un cambio di ritmo sincopato a metà dove ti puoi anche girare fare il balletto andando sul tema quindi anche qui TikTok si potrebbe fare così peccato peccato per un artista con una bella voce una presenza scenica di tutto rilievo mi aspettavo molto di più e mi spiace grazie mille però per il 5 dato da Amadeus che mi ha aiutato nel Fanta Sanremo si è collegato dalla nave Tedua ha fatto una canzone insieme a Fedez non ieri sera ma in un disco precedente che adesso andiamo ad ascoltare Fedez insieme a Tedua con Sapore Fedez Sapore insieme a Tedua Tedua che si è collegato appunto dalla costa crociere lì al lago di Sanremo tra l'altro quest'anno hanno questa cosa che sul fianco possono fare delle scritte giganti sul fianco appunto della nave hanno scritto tipo è tardi nasone riferendosi ad Amadeus cose del genere e ovviamente meme su meme si stanno girando in questo momento su Instagram e sui vari social che ho scritto praticamente la qualunque piccola nota appunto attenzione a dire su Instagram e basta perché poi sennò vi arriva la multa dall'antitrust come è successo al Festa di Sanremo alla Rai infatti ieri ha fatto una piccola gag sul fatto di dire andate sui social io però sono boomer non posso dirvi bene come quando perché in realtà poi vabbè c'era di mezzo una situazione poco chiara che anzi stanno ancora andando a cercare di dipanare l'antitrust da una parte la Rai ha fatto ricorso su questa multa da cento e passa mila euro che vabbè per Sanremo non è niente credo sia il costo di un quarto d'ora di trasmissione del prima festival forse diciamo più o meno questo comunque noi andiamo avanti siamo alla 26esima ci mancano Santi Francesi Fred De Palma Manini Alfa e il 3 tutto questo qui su Crystal Radio lo potete sentire e ascoltare i miei commenti che sono strumenti a caldo non li ho toccati questi sono stati commenti che ho scritto ieri sera durante le esibizioni direttamente dalla sala stampa la sala stampa Lucio Dalla del Palafiori qui di Sanremo il sole si sta alzando su Sanremo nuvolo ancora ma posso dire forse meglio così perché si sta bene ma non fa caldo quindi non è l'umidità ma il caldo ecco si sta bene non fa caldo non sta picchiando il sole forse è meglio così perché se no saremmo un po' distrutti nell'andare avanti e indietro andiamo con quella che non c'è a Sanremo ma che tutti dovrebbero vincitrice che è Elodie con Affari Spenti Foo Fighters The Glass 8 e 33 minuti ultima mezz'ora in compagnia di Crystal Radio Good Bunny Milano poi daremo la linea assenti questa di Ambrogio Curti ma continuiamo a vedere gli ultimi artisti che sono saliti sul palco e le commenti a caldo che ho fatto appunto dato e ho scritto mentre li guardavo dalla sala stampa in diretta dalla sala stampa Lucio Dalla qui a Sanremo allora i 26esimi a salire sul palco sono stati i Santi Francesi parte lenta la canzone forse un po' troppo un po' troppo la parte lenta è un po' troppo lenta e un po' troppo lunga poi arrivano i synth per fortuna e quindi il sintetizzatore fa il suo lavoro troppo poco elettronica di solito non sono molto più elettronici ci voleva forse un po' più di coraggio peccato perché mi sembra un'opportunità persa diciamo che sono ancora lontani dai cugini e conterranei piemontesi dei subsonica santi francesi che arrivano anche loro diciamo che fanno parte anche loro dei giovani di area Sanremo e Sanremo giovani il ventisettesimo è Fred De Palma ritorna anche qui la base che pompa la cassa e i drop praticamente ad ogni strofa quindi questi drop queste pause Rolling Stone oggi l'ha definito effetto cenere ricordando appunto la celebre canzone di Lazza sì c'è un po' questo effetto che viene ricercato da molti in tantissime canzoni canzone fatta con il manuale cincelli della musica da tormento radiofonico devo dire che però secondo me appunto la sentiremo perché è poi fatta con il manuale cincelli del ti faccio la hit radiofonica che non ti togli dalla testa Maninni sale Maninni e viene da scrivere ah ma è tornato Ringa sul palco ah no forse Gazzelle no aspetta sarà Mr. Rain ah no è Maninni la chiudo qui la chiudo qui ventinovesimo invece è salito Alfa Alfa qualcosa di qualcosina ma proprio poco poco anzi pochino diverso dal resto e ora che riesco a finire la frase il rischio dell'ennesima canzone clone però è dietro l'angolo perché si sembra quando arriva forse c'è qualcosa aspetta c'è qualcosa di diverso ma in realtà forse è una cosa diversa però almeno ti mette la pulce nell'orecchio del sembrare dello sperare che sia una canzone un po' diversa dal resto non di Alfa e dal resto in gara a Sanremo infine il 3 allora non me l'hanno insegnato a scuola io sto leggendo quello che ho scritto ieri sera mentre guardavo la diretta della stessa stampa non me l'hanno insegnato a scuola ma per quello che posso ricordare l'hip hop dovrebbe essere una cosa un po' diversa lo dico lo dico perché Amadeus nel presentare il 3 ha fatto riferimento proprio al suo essere un artista di riferimento del mondo hip hop adesso non lo so a Rolling Stone mi ha dato un voto bassissimo ad esempio guardavo poco fa non è arrivato io ho un'idea di pop diversa anche qui ci sono delle melodie che non dovrebbero forse esserci ci sono dei parlati che invece dovrebbero essere cantati tanta confusione sicuramente avrà il suo pubblico che lo apprezzerà quindi attenzione anche questo ormai qui non è più una scienza perfetta è questo il dramma non è più quello sì quello no è tutto sfumatura è tutto bolle nella vostra bolla molto probabilmente il 3 è il vincitore assoluto del festival di Sanremo dell'Eurovision del Nobel per la pace e del premio Pulitzer ok le vince tutti lui nella bolla di qualcun altro la risposta potrebbe essere chi? chi è? che è il 3? ecco e questo è un po' il problema di queste bolle e Sanremo andando a prendere tutte queste bolle le mette insieme e sapete cosa succede alle bolle quando si mettono insieme? scioppano è questo che fanno non è che fanno altro invece secondo me il grande vincitore della serata è stato lui Marco Mengoni in veste di presentatore fantastico in veste di cantante ha fatto saltare sulla sedia tutta la sala stampa Marco Mengoni tutti i miei ricordi e tra i ricordi di Marco Mengoni si aggiungeranno quella stupenda esperienza di ieri sera sul palco dell'Ariston questa sera sull'Ariston un'altra cantante a fare la co-co come la chiama Amadeus la co-conduttrice di questa sera sarà Giorgia che salireà appunto a fianco di Amadeus e io devo dire altre aspettative perché Giorgia l'adoro è veramente matta da quel punto di vista come artista cioè proprio una di quelle imprevedibili di quelle che sa fare delle grandi cose tra parentesi non vorrei sbilanciare e dire una stupidaggine ma credo sia già stata sul palco dell'Ariston non solo in mese di cantante cioè aveva già fatto delle cose forse con Fiorello aveva fatto dei momenti qualche anno fa anzi sono molto curioso di vedere se interagiranno Fiorello e Giorgia che sono anni che si conoscono e hanno fatto tantissime belle cose insieme davvero davvero complimenti alle scelte di Amadeus di questi co-conduttori avremo poi la Mannino e poi chiuderemo con Fiorello sabato quindi molto molto interessante voi che ne dite allora delle mie delle mie non pagelle dei miei commenti a caldo della sala stampa riportati poi questa mattina 33178535555 il nostro numero di whatsapp scriveteci siamo qui in diretta da Sanremo per leggere i vostri messaggi per commentare insieme quello che è successo ragazzi c'è poco da fare questa settimana si parla di Sanremo non è che si può ma a prescindere dal fatto che io sono qua ma non si può non si può ma anche se andate se adesso prendete una macchina andate in Val Brimbara scendete posteggiate salite andate su una montagna scansate quattro mucche entrate in una baita trovate qualcuno questo dirà oi pota hai visto il festival di Sanremo è ovvio farà così perché è così questo è il mondo questa è l'Italia in questi giorni grande delirio qui nelle strade di Sanremo tra parentesi interessante anche che durante la conferenza stampa l'assessore alla mobilità del comune di Sanremo ha dovuto dire guardate che abbiamo messo le navette se volete ci sono due o tre parcheggi fuori Sanremo mettete le macchine lì sono gratuiti e poi vi mettete la navetta gratuita che vi porta in città e vi porta fino qui perché davvero è davvero complicato girare tantissima gente i varchi i controlli i riservi hanno aperto lo zaino 5-6 volte andando avanti e indietro però insomma è quello che avviene grazie anche a te Alberto che ci scrive al 331-78-53555 ci dice grazie Fabio per la tua cronaca Sanremese cronaca che continua anche durante la giornata perché dalle 6 alle scusate dalle 16 alle 17 dalle 4 alle 5 di ogni pomeriggio Crystal Hall Sanremo Stefano conduce questa trasmissione parlando appunto del festival di Sanremo e all'interno c'è sempre un mio collegamento quindi cercheremo di collegarci manderò un po' di contributi dalla sala stampa dalle conferenze stampa e appunto racconteremo un po' quello che è stato il festival di Sanremo e quello che è il festival di Sanremo tutti i giorni in diretta la mattina dalle 7 alle 9 qui con Good Morning Sanremo e poi nel pomeriggio tra le 4 e le 5 tra le 16 e le 17 con Crystal Hall Sanremo Stefano e io in collegamento live qui da Sanremo poi torniamo un attimo anche sulla città di Milano perché prima di chiudere ho un paio di notizie da leggere tra cui una su San Siro non Sanremo ma su San Siro si torna a parlare di San Siro il Milano ha detto qualcosa non meglio Barbara Bellusco ha detto qualcosa Salaglia ha risposto non se ne può più io lo dico no Salaglia ha risposto io invece dico non se ne può più non se ne può più 15 piani Sfere Basta e Marrakesh che ci riporta a Milano si questa canzone mi riporta tanto tanto al nostro quartiere e mi riporta tanto a Milano e mi riporta tanto a San Siro perché perché leggiamo da Milano da Repubblica Milano Barbara Berlusconi inverosimile il piano per ristrutturare San Siro botta e risposta con Sala ma lei che ne sa me ne sono occupata da anni dieci anni fa la figlia dell'ex premier era amministratore delegato del Milan e tentò la via dello stadio di proprietà oggi dice il miazza è decadente disagevole e privo di servizi chi frequenta il secondo e terzo nello lo sa bene e quindi sempre più si va verso quello che dicevo io che il Milan punta a farsi lo stadio da solo San Donato quartiere San Francesco da San Siro ci si sposta di là sono tre santi di mezzo San Siro San Donato San Francesco il Milan si vuole fare lo stadio là c'è poco da fare quindi liberiamo San Siro dal Milan il prima possibile così che si possa iniziare a fare delle ristrutturazioni poi anzi pensate se lo ristrutturiamo che gioca solo una squadra ancora meglio e ve lo dice uno che non è tifoso né dell'una né dell'altra squadra cioè in generale è una tifosia sulla squadra di calcio quindi ci dice qualcuno che è super partes ma lo dice qualcuno che vuole salvaguardare un bene del comune che non è una catapecchia se no non si spiegherebbe come ci hanno fatto la finale della Nation League lo scorso anno la finale di Champions tra parentesi la finale di Champions che ci stiamo riproponendo di fare di nuovo perché siamo candidati ci sono gli europei Italia Turchia volete non fare una partita a San Siro nel 2026 inauguriamo le Olimpiadi invernali lì dentro e c'è già un piano di ristrutturazione per quelle Olimpiadi per fare sistemare alcune cose quindi smettiamola si vuole costruire uno stadio di proprietà liberissimi fatelo fatelo siamo solo contenti anzi posso dire se li fate cambiano un senso queste strutture e non servono solo al calcio sono strutture che portano tanto alla città i palazzetti con tanto pubblico che vuol dire sopra i 25 26 mila 30 mila spettatori quelli sono palazzetti che hanno dignità di esistere in una città europea come Milano non 15 16 mila che sono una cosa completamente inutile soprattutto quando ne fai 3 o 4 noi rischiamo colpa l'Italia di Rogoreto di avere l'ennesimo palazzetto di media dimensione come il Farm d'Assago e come magari poi risottureremo prima o poi anche l'ex Palavobis Palatrosardi chiamatelo come volete quello al Montestella in più poi comunque hai l'Allianz Arena che è più piccolo e quindi rischiamo di avere tutte strutture medio piccole dove non puoi fare i grandi eventi ma a Milano è possibile non avere una struttura dove fare i grandi eventi allora c'è San Siro mettiamola a posto 80 mila spettatori facciamone scendere a 70 mila facciamone scendere a 60 mila beh hai un palazzetto una venue una location per 60 mila spettatori io insomma ci farei un pensiero che dite voi non la volete vabbè vedremo come andrà a finire come sempre qui la frase è sempre quella vedremo come andrà a finire e adesso Anna Tatangelo con essere una donna così chiudiamo con una canzone di qualche anno fa che ci fa tanto cantare a squarciagola Anna Tatangelo essere una donna 8 e 55 minuti in diretta la Sanremo vi saluto anche per questa giornata di mercoledì 7 febbraio grazie per averci seguito e grazie per aver passato la mattinata insieme con noi dopo di noi dopo di noi Ambrogio Curti con senti questa eh sì la grande musica italiana internazionale raccontata la voce fantastica e dagli anidoti da quanto ne sa Ambrogio Ambrogio quanto ne sa senti questa dopo di noi e dopo dopo il giornale radio io io stamattina devo andare giù eh sì devo andare giù di nuovo in sala stampa abbiamo un po' di appuntamenti per fare un po' di domande anche a ospiti che sono stati già anche a Gusmoni Milano e che ci racconteranno un po' meglio quello che sta succedendo qui a Sanremo poi questa sera seguiteci comunque perché faremo le nostre solite dirette oggi pomeriggio ricordo Crystal All Star dalle 16 alle 17 con tutte le notizie qui da Sanremo in diretta sarò in giro nelle strade raccontarvi quello che è successo nella giornata di oggi e allora appuntamento a domani dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio FM 96.2 DAB Plus app per iOS Android e ovviamente il sito internet crystal radio punto it buona giornata a tutti grazie della vostra compagnia come sempre grazie di farci entrare nelle vostre case tutte le mattine buongiorno giornata a tutti ciao